e dei diversi materiali. Questi sono gli obiettivi primestrali dell'anno scorso che si erano stati stabiliti e comunicati a ogni scuola. Come vediamo c'è un numero di alunni e si è calcolato una media di 5 litri al mese a famiglia e di quei 5 litri abbiamo calcolato il 30% da recuperare a scuola. Quindi è uscita una media, ad esempio, prendo un acaso da prima, questo circolo, 734 bambini, dovevamo raccogliere 3.300 kg di olio. Invece vediamo quanto abbiamo raccolto. 257 kg. Quindi su 3.300 siamo ancora molto lontani. Però noi siamo qui perché manteniamo le promesse, avevamo detto che vi premiavamo comunque, e questa è la raccolta primestrale appunto dell'anno 2017-18. Come vediamo la scuola in classe che ha raccolto più olio e il quinto circolo per l'unilo. La terza A. Non so se volete raggiungermi, qui così intanto vi faccio uno.